Alex Ranghieri è partito dalla stagione 2012 del Bicce, le tue impressioni? Le mie impressioni? Sicuramente Napoli come location in questa prima tappa è stupenda, è fatta veramente bene, è organizzata molto bene, sono attenti a tutti i piccoli dettagli, mi piace molto, spero di fare un gran bel torneo, abbiamo appena finito con una vittoria, insomma la prima partita e niente. Il tuo obiettivo per quest'estate del 2012? L'obiettivo per quest'estate, adesso facciamo le parole un po' troppo grosse, abbiamo un mese, un mese da tutto poco, di fare bene, di riuscire a entrare nelle prime quattro, comunque sempre in finale, così andare sempre più su possibile. Il tuo compagno si chiama? Matteo Cecchini. Come ti trovi con lui? Sta crescendo, è giovane, lavoriamo bene, sono contento, ha tante cose da perfezionare perché è molto giovane, è un buon esperto, però secondo me con la giusta colpezza riuscirà a emergere molto bene. Quali pensi siano i vostri punti di forza? Come coppia? Il muro, no scherzo, no, di coppia, ma per adesso secondo me è troppo presto per dirla, insomma c'è una coppia nuova che sta nascendo, quindi emergerà, poi io non riesco a vedermi da fuori, quindi non ci sono ancora guardato i video, quindi non so dire di questo momento. Ok grazie, in bocca all'uvo. Cremi, ciao.